come scaricare e installare il programma nvidia app la versione beta dove tu puoi configurare così i tuoi giochi la tua scheda video puoi registrare aggiornare i driver della tua scheda video personalizzare il programma fare tutto quello che vuoi su nvidia app quindi in questo caso puoi anche attivare il ray tracing come puoi vedere la differenza tra riguardo anche al ray tracing dynamic vibrance che è un filtro basato su live che migliora la chiarezza visiva consentendo ai gamer di distinguere meglio gli elementi nel gioco per ogni app anche il ray tracing hdr ovviamente va scaricato così il programma beta scarica così la versione beta installi così la versione beta una volta installata la versione non ti resta che aprire il programma nvidia ed eccolo qua home driver grafica oggi hanno aggiornato nvidia hanno aggiunto anche il pannello sistema dove tu puoi vedere i tuoi componenti e scheda grafica la frequenza del tuo modo quindi lo schermo 1922 1080 processore rame archiviazione dei due dischi su prestazioni qui tu puoi regolare la tua scheda grafica io qua non tocco nulla metto obiettivo velocità vento la metto tutto automatico lascio così come la regolazione automatica la tengo attiva e basta e sui driver invece tu qua puoi scaricare installare i driver per la tua scheda video hanno rilasciato così l'aggiornamento il 4 di giugno 2024 driver game ready e driver studio tu devi installare tutti e due una volta fatto come puoi vedere mi sta installando anche il driver nvidia studio rilasciato il 4 giugno una volta scaricato non ti resta che poi installare il programma e riavviare il tuo sistema operativo su grafiche invece ci sono tutte le applicazioni dove tu puoi ottimizzare i programmi come puoi vedere gta 5 tocco non è ottimizzato posso cliccare su ottimizza prestazioni lo tengo tutto basso è ottimizzato e faccio aggiorno è ben ottimizzato se invece lo voglio con buona qualità perfetto versione di rendering molto alta proporzione distanza 100% la mia scheda grafica 1660 super non riesce a reggere proprio gta con una qualità veramente bellissima quindi lo tengo su prestazioni massime e basta come puoi vedere ha cambiato la nel proporzionamento distanza quindi tu puoi aumentare e migliorare la qualità e le prestazioni su tutti i tuoi giochi grazie al pannello grafica impostazioni globali stessa cosa anche qua frequenza fotogrammi massima metto fino a 1000 fps tanto non arriverò mai fino a 1000 fps sistema l'abbiamo già detto riscatta così premi sui giochi e impostazioni ed ecco anche la parte più importante dove possiamo registrare i nostri giochi sovrapposizione invidia cattura in modo semplice video e screenshot tienilo attivo premi così il tasto alt più z ed eccolo qua invidia app registra instant replay lo disattiva un attimo per configurare cattura video allora durata instant replay se è attivo ti salva gli ultimi minuti che tu hai fatto in un gioco oppure sullo schermo qualità personalizzata risoluzione puoi mettere pure fino a 4k io metto 1080 120 fps megabit al secondo 130 durata instant replay registra fino a 20 minuti tipo ti salva gli ultimi minuti che hai fatto poco andiamo su rotella con impostazioni tasti di scelta rapida ed eccole qua allora io registro con num questo slash registro con questo attiva disattiva l'instante replay alt più shift più f10 salva gli ultimi tre minuti registrati dice tre minuti perché la sopra c'era tre minuti perché io personalizzato i tre minuti quindi premo alto più f9 e salvo gli ultimi tre minuti che ho fatto in un gioco momenti importanti però mi raccomando tieni l'instante replay attivo per fare queste cose i momenti salienti per esempio i momenti salienti acquisisci momenti salienti tipo solo alcuni giochi supportano questa cosa quindi tu uccidi muori uccisione folle e ti salva tutte queste clip automaticamente io ovviamente lo tengo disattivato perché non mi serve non ci gioco quasi mai a questi giochi qua fortnite eliminato ko eliminazione vittoria quindi se tu tieni attivo vittoria e giocando con l'instante replay attivo vinci la partita e ti salva anche quel momento che ti salva quel momento quando tu hai vinto la partita torno indietro filtro di gioco sarebbero i filtri i giochi quindi tu avvia così un gioco e tu ci puoi mettere un filtro tipo bianco e nero colore dettagli contrasto luminosità alta per avere tipo i colori più accesi sui giochi impostazioni cattura video devi tenere anche acquisizione desktop ok così facendo tu puoi registrare anche sul tuo desktop ok e basta microfono io lo tengo disattivato quando registro perché non mi serve il microfono attivo quando registro e le statistiche invece come puoi vedere in alto a destra tutte questi parametri tutte queste statistiche frequenza fotogrammi uso scheda video temperatura scheda video clock g più tensione g più potenza g più e aggiunto alla compagnia qua e basta e lo tieni attivo add le cose sullo schermo qua sotto microfono e basta registra che sarebbe questo in basso a sinistra instant replay in basso a sinistra momenti salienti in basso a sinistra stessa cosa con i microfoni in basso a sinistra posso metterlo in alto posso metterlo a sinistra destra dappertutto e basta invidia app è un ottimo programma per configurare i tuoi giochi aggiornare i driver della tua scheda video fare tutto quello che vuoi sul tuo computer grazie a invidia app quindi grazie a tutti per questa visione iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao